All'inizio, sinceramente, i miei bambini non volevano frequentare una scuola d'inglese e questo mi preoccupava molto, però era necessario e fondamentale conoscere la lingua inglese. In realtà è stato un sollievo perché quando hanno cominciato a frequentare il British Council erano contenti, felici di venirci. La mia figlia si è trovata benissimo in tutti questi anni, è cresciuta, le piace molto il sistema che usano gli insegnanti per spiegare la materia. All'inizio avevo paura che fosse pesante per lei, invece il primo giorno quando sono andata a riprenderla mi ha accolto con il sorriso sulle labbra e quindi lì ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Grazie. Grazie.